Oh raga, siamo 100 qua sotto, 100 qua sotto! Si, ripinghi, 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 ripinghi! Terno al muro, tiro al muro! Passi d'arrivo, spostamento della zona sicura! A terra! Bravo, bravo, messi tu a terra! Vai, vai, vai! Vatti, ammazzati, team eliminato! Manca... Team eliminato? Si, si, team ha nientato! Oh, andiamo adesso del benzinaio, andiamo qua, raga, andiamo qua! In movimento! Dai, vai ora, ora, però adesso, ora, però adesso! Oh, scusa, passiamo bene qua! In movimento! Vai, vai, vai! C'è un attacco a grapple, ricordatevi se serve! Ho furio! Fammi un burdo mappa adesso! Mancano 10 persone! Occhio, qua dentro è sicuro c'è qualcuno che se sta a nascondere c'è un quad, eh! Allora, aspettate un attimo, fatemi sentire bene con i buchi! Passiamo per di qua, raga, passiamo per di qua! Cassi in avvicinamento! Vieni sa, vieni sa! Ma come... Contatto! Cercano alune, cercano alune! Ah, bello d'addio, raga! C'è un'unica forse sta in safe qui, eh! Sì, sì, sta in safe, in safe! Di un minimale! Aspetta a sparare! Che se! Falli fa pezzi, falli fa pezzi! Noi devono uscire per ultimi, stavamo messi bene, famosi cazzi nostri! Nessuno penserà che stavamo giù! Giù, Simone, non saltare, porco Dio! Non saltare, mettete giù! Stavamo safe, ecco Dio! Stavamo qua, eh! Stavamo qua, eh! Ti rimani là! Non ti fa vedere! Fermati! Zitto! Zitto! Porco Dio, gli lancio un grappolo in bocca a crudo! Gas in movimento! Perfetto! Buono! Perchè il canalone piano piano? Mi viene, può provarti? Un attimo! Non ti fa vedere! Stai giù! No, non ti fa! Mottiamo tutti i bombardamenti al centro safe e rimaniamo nel gas! Abbassate Simone! Abbassate Simone! Abbassate Simone! Questo è un corpo di Cecchino! Si muore! Guarda come gli danno una botta in testa che non lo guardo arrestato, lo dico! Sì, giù, non puoi salto l'arresto! Sta zitto, un attimo! Stai perdendo terreno! Eccoli! Qui c'è un bersaglio! Ok! Bersaglio eliminato! Atterra eliminato, eliminato! Qui loader 2-0 ricevuto! Ne rimangono 5, concentro! C'è stato un altro canalone qua! Venite qua, venite qua, venite qua, venite qua, vedoci! Bello stai, mi dici! Ha paura! Poi vedremo subito un Tossano e gli dirò un ben borbarco! Stanno qua, stanno qua, a giallo! In movimento! Ok, ok! Da ieri non ci possono venire, perfetto! Siamo tipo in una botta di ferro! Lasciate, che cosa? Aspetta, aspetta, vediamo come si è esposto! Aspetta un attimo! In movimento! Lasciate! 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 Buon arie! Qui c'è stato un riparo qua dietro, regà! Dietro a stai bacce, qui bravi! Do' cazzo stanno regà? dietro al muro ragazzo hanno quale muro pingamolo gli lancio un rpg almeno ok ragazzi questi morono questi morono nel gas se c'hanno i mascheri sono crepati eh non è che è in glitch o magari stanno la attenzione ignorate quello che ho detto questo e no pensavo ad un ragazzo prima eccolo sono là sono là preso vai ma è forte è forte ma ma che benessere che benessere ma quando vuoi passare guccio strambo grande garbo e soprattutto per giorgio fuori carambrogio mamma ma aspetta 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 ma devo salvare questo con sei kill ma hai fatto una vita 1600 anni poi stavamo dietro al bu